Mi ha fatto un enorme piacere partecipare a questo film, mi sono trovato benissimo con tutta la troupe, soprattutto con Francesco Bruni, straordinario, riusciva ad avere un rapporto anche col gruppo, con la troupe, ottimale. Io ho fatto il papà di Kim Rossi Tewett, Umberto, che ha questo segreto, questa figlia, per cui poi sarà chiave di volta delle cose, perché lei è compatibile e quindi salverà la situazione. Però è un film straordinario, dove si ride anche, si pensa molto ed è un'occasione per ritrovare i valori della famiglia, stare tutti insieme, anche se la famiglia si presenta un po' disgregata all'inizio. Devo dire che qua gli uomini sono tutti un po' non belli, non perfetti, mentre le donne sono quelle che tirano avanti tutto. Comunque sono felice e io spero che si ripeta presto un'altra situazione cinematografica, perché ho tanta voglia di tornare a fare cinema.